Benvenuti nel nostro canale dedicato al mondo del cinema. In questa occasione, esploreremo la vita straordinaria dell'indimenticabile attrice italiana Giulietta Masina. La sua carriera è stata un tripudio di successi, mentre la sua interpretazione unica e il suo impatto duraturo l'hanno resa una figura iconica del cinema. Unisciti a noi mentre ripercorriamo i momenti salienti della sua vita, immergendoci nella sua abilità di trasmettere emozioni profonde e toccanti. Benvenuti in questa avventura nel mondo di Giulietta Masina, una delle attrici più amate e rispettate di tutti i tempi. Giulietta Masina è nata il 22 febbraio 1921 a San Giorgio di Piano, una piccola cittadina nella provincia di Bologna, Italia. Era la seconda di quattro figli. Suo padre, Gaetano Masina, era un costruttore di pianoforti, mentre sua madre, Elisa Lia Bondi, era una casalinga. Fin da giovane, Giulietta mostrò un grande interesse per l'arte e la recitazione. Crescendo in una famiglia appassionata di teatro, fu incoraggiata a perseguire i suoi sogni nel mondo dello spettacolo. Dopo aver completato gli studi superiori, si iscrisse alla Scuola di Teatro di Roma per seguire una formazione professionale nel campo della recitazione. Durante gli anni della Scuola di Teatro, Masina sviluppò le sue abilità e il suo stile unico come attrice. Venne notata per la sua capacità di esprimere una vasta gamma di emozioni attraverso il suo volto espressivo e i suoi movimenti corporei. Queste caratteristiche distintive sarebbero diventate un marchio di fabbrica della sua futura carriera cinematografica. Dopo aver completato gli studi, Masina fece il suo debutto professionale nel mondo del cinema nel 1946 con il film Il Bandito, diretto da Alberto Lattuada. Anche se il film non ottenne un grande successo, segnò l'inizio della sua carriera nel mondo dello spettacolo. La carriera di Giulietta Masina nel mondo dello spettacolo è stata segnata da numerosi successi e collaborazioni di prestigio. Dopo il suo debutto cinematografico nel film Il Bandito nel 1946, la sua carriera decollò grazie alla collaborazione con il celebre regista Federico Fellini, che sarebbe diventato suo marito. Il punto di svolta nella carriera di Masina avvenne nel 1954, quando interpretò il ruolo di Gelsomina nel film di Fellini La strada. La sua interpretazione di una giovane donna fragile e ingenua, che lavorava come artista di strada, le valse il premio per la miglior attrice al Festival di Cannes e un'accoglienza internazionale molto favorevole. Nel 1957, Masina ottenne un altro grande successo con il film Le notti di Cabiria, sempre diretto da Fellini. Interpretando il ruolo di Cabiria, una prostituta romana alla ricerca dell'amore e della felicità, Masina regalò un'interpretazione toccante e commovente. Il film vinse il premio Oscar come miglior film straniero e Masina ricevette il premio per la miglior attrice al Festival di Cannes. Negli anni successivi, Masina continuò a lavorare con Fellini in diversi film di successo, tra cui Le tentazioni del Dottor Antonio, 1962, e Giulietta degli Spiriti, 1965, che le permisero di esplorare personaggi complessi e sfaccettati. Oltre alla sua collaborazione con Fellini, Giulietta Masina ha lavorato anche con altri registi di rilievo. Nel 1959, recitò nel film La Rosa tatuata di Daniel Mann, interpretando il ruolo di Serafina delle Rose, per il quale ricevette una nomination agli Academy Awards come migliore attrice protagonista. Verso la fine della sua carriera, Masina si dedicò principalmente al teatro e alle produzioni teatrali. Recitò in numerose pièce di successo, dimostrando la sua versatilità come attrice anche sul palcoscenico. La carriera di Giulietta Masina fu ricca di riconoscimenti e onorificenze. Ricevette numerosi premi, tra cui il leone d'oro alla carriera al Festival del Cinema di Venezia nel 1989 e il premio alla carriera al Festival di Cannes nel 1991. La vita privata di Giulietta Masina è stata segnata dalla sua lunga relazione con il regista Federico Fellini, che è diventato suo marito nel 1943. I due si sono incontrati durante i loro studi presso la Scuola di Teatro di Roma e hanno condiviso una collaborazione artistica e una profonda connessione personale per tutta la vita. Giulietta e Federico sono stati considerati una delle coppie più affiatate e creative del mondo del cinema italiano. Hanno lavorato insieme in numerosi film, con Fellini che ha diretto e Masina che ha interpretato ruoli memorabili. La loro unione è stata caratterizzata da un forte sostegno reciproco e da una profonda complicità artistica. Nel corso del loro matrimonio, Giulietta e Federico non ebbero figli, ma la loro relazione fu solida e duratura. Anche dopo la morte di Fellini nel 1993, Masina ha continuato a preservare e promuovere il loro patrimonio artistico e a lavorare occasionalmente in produzioni teatrali. Fuori dal mondo dello spettacolo, Giulietta Masina era conosciuta per la sua personalità riservata e schiva. Era una donna umile e discreta, che preferiva mantenere una vita privata lontana dai riflettori. Nonostante la sua fama e il successo, Masina ha sempre cercato di preservare la sua privacy e concentrarsi sulla sua arte. Giulietta Masina è scomparsa il 23 marzo 1994 a Roma, all'età di 73 anni. La sua morte rappresentò una grande perdita per il mondo del cinema italiano e internazionale, lasciando un vuoto nel cuore dei suoi ammiratori e degli appassionati di cinema. Dopo la morte del marito, il regista Federico Fellini, nel 1993, Masina continuò a dedicarsi al suo lavoro e al teatro sporadicamente. Tuttavia, la sua salute cominciò a deteriorarsi e, purtroppo, affrontò problemi di salute negli ultimi anni della sua vita. La morte di Giulietta Masina rappresentò la fine di una brillante carriera e di una delle icone del cinema italiano. La sua presenza unica sullo schermo, la sua capacità di esprimere emozioni complesse e la sua straordinaria interpretazione dei personaggi rimarranno per sempre nella memoria del pubblico. Per onorare la memoria di Giulietta Masina e continuare a scoprire altre storie meravigliose nel mondo del cinema, ti incoraggio a iscriverti al nostro canale. Clicca qui per registrarti e unirti alla nostra comunità di appassionati del cinema. Insieme, possiamo continuare a celebrare il talento e la passione che rendono il cinema così straordinario.